Raffica di interventi del soccorso alpino sulle montagne bellunesi nel weekend di Ferragosto, a cui si è giunta la ricerca del 38enne romano che venerdì era caduto in acqua alle cascate di Fanes, proseguita senza esito nonostante l'utilizzo di una telecamera subacquea da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Per quanto riguarda i recuperi in montagna, due feltrini sono rimasti bloccati mentre affrontavano una via sul Civetta. Dopo aver bivaccato in parete nella notte tra sabato e domenica erano stati sorpresi dalla pioggia, gli ha recuperati l'elicottero. Sempre domenica una 82enne di Frosinone è stata recuperata mentre rientrava ad un'escursione all'eremo dei Romiti a Domegge. Sabato pomeriggio c'era stato il salvataggio di un altro anziano, un 75enne mantovano che aveva perso il sentiero mentre tentava di raggiungere Malga Piendevacia a Selva di Cadore. Sabato sera il soccorso alpino di Feltre è stato allertato per un parapendio rimasto sospeso 15 metri del suolo su un albero in un bosco del monte Avena. Il pilota non ha riportato ferite.